buonasera a tutti buonasera e benvenuti a questa serata di presentazione appunto dell'ava trading academy oltre a me che sono mirco astignani c'è anche daniele ponzinibbi che è responsabile appunto italia di ava ciao daniele ciao daniele vediamo aspetta un secondo che li riattiviamo l'audio perché glielo avevo ovviamente tolto ciao daniele buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo ciclo di webinar buonasera bene allora ragazzi saremo abbastanza brevi questa sera semplicemente per presentarvi questo progetto che parte appunto ufficialmente ora ma il vivo ce l'avrà dalla serata di domani per poi arrivare a tutto il resto quindi vediamo subito di che cosa stiamo parlando e del motivo per cui è stato fatto un percorso di questo tipo allora innanzitutto come sapete ci sono state grosse novità ci sono state situazioni che hanno cambiato un po il panorama del trading mondiale partendo appunto dall'esma e dalle nuove regolamentazioni per poi arrivare all'introduzione quest'anno di alcuni future addirittura sul bitcoin insomma ci sono state molte novità e molte situazioni per questo insieme ad avatrade abbiamo deciso che era il momento di cercare di consolidare e di organizzare in maniera strategica efficace e veloce tutta una serie di informazioni necessarie che ci permettono di andare a identificare chi tra di voi sostanzialmente avrà le caratteristiche per ricevere un diploma ufficiale da trader quindi una cosa molto molto bella molto carina soprattutto diversa da quelle che ci sono in giro anche perché qui l'obiettivo è quello che voi impariate tutte quelle basi che vi permettono di essere profittevoli o comunque avere una probabilità maggiore di essere profittevoli poi daniele ci farà vedere ci spiegherà che molti che dalla sua esperienza appunto da dietro le quinte quindi da broker ci sono alcune cose che se non si conoscono se non si sa come andare a operare la possibilità di guadagno diventa pressoché nulla e quindi a noi che interessa anche il vostro successo abbiamo deciso di organizzare una cosa di questo tipo allora vediamo subito al dunque come è formato queste come saranno formate questo percorso innanzitutto sarà un percorso abbastanza impegnativo perché è formato da nove webinar questo ovviamente è il webinar di presentazione da domani sera invece inizieremo con il primo per poi arrivare a fine novembre aver fatto tutti i nove webinar che ci servono in più faremo anche una giornata in sala e poi da domani vi daremo il modulo per iscrivervi a questa giornata e durante la giornata verrà fatto un ripasso veloce di tutto verranno spiegate le basi del money management a livello avanzato per poi concludere con un esame finale e la consegna per chi appasserà l'esame del diploma appunto di trader in modo che sarete certificati sul fatto che avete una conoscenza base minima per poter sostanzialmente affrontare in maniera consapevole i mercati finanziari questo è il motivo per cui faremo il tutto andiamo avanti e vediamo un attimo cosa faremo nei webinar allora oggi faremo l'introduzione appunto poi domani parleremo di trading base e di tutto quello che vi serve per operare quindi tutte le cose che servono dalla base del trader dal punto di vista delle leve finanziarie piuttosto che i pip tic le piattaforme come operare insomma tutto quello che vi serve per iniziare giovedì primo di novembre invece faremo le basi dell'analisi tecnica quindi tutto quello che riguarda appunto non le strategie di trading ma tutte le conoscenze di base da avere per poter poi eventualmente vedere le varie strategie le varie tecniche tutte le varie situazioni che andremo a creare martedì 6 novembre vedremo invece le strategie più famose base con gli indicatori quindi partiremo da cosa sono gli indicatori come si costruiscono quali sono i settaggi degli indicatori più famosi per andare poi a capire quali sono le strategie più famose appunto di questo giovedì 8 novembre vedremo invece le strategie pattern quindi vuol dire dove ci sono delle configurazioni sul grafico anche qui vedremo segnali di ingresso e di uscita così anche potrete cominciare eventualmente ad investire anche con questi tipi di strategie ok il primo novembre è festa e noi faremo il webinar se poi eventualmente vi daremo la registrazione tanto siete a casa non fare tale non so cosa avrete da fare io farò il webinar poi strategie genetiche il 14 martedì 14 novembre cosa sono le strategie genetiche sono quelle strategie che vengono esplose non da noi non vengono create da noi ma vengono create da un software che apprende in maniera genetica e qui avremo il primo ospite che sarà alessandro cicalese il quale ci parlerà e ci spiegherà come vengono create appunto strategie genetiche non so in quanti di voi conoscono non so in quanti di voi conoscono questo mondo ma è un mondo veramente molto affascinante e noi ci stiamo spostando in una maniera molto forte verso questo tipo di attività poi andando avanti i giovedì 16 novembre parleremo di auto trading e questa sarà secondo me una delle lezioni più importanti che verrà tenuta da daniele ed eventualmente da un altro daniele vedremo adesso un attimo le disponibilità dove praticamente impareremo a fare che cosa con un software molto semplice impareremo a programmare anzi non a programmare ma a comporre tutto quello tutti i nostri trading system sostanzialmente cioè vuol dire che se io vi spiego una strategia voi sarete in grado mentre io parlo mettendo a posto quattro iconi di sistemare un pochino il tutto se avete delle domande da fare di quello che sto dicendo scrivetemele pure poi mentre parlerà daniele io risponderò a tutti o in privato eventualmente alla fine risponderò a tutti poi andremo a parlare sulle opzioni sul forex qua avremo ospite appunto andrea vatturi e cercheremo di capire come migliorare la propria operatività utilizzando le opzioni sul forex così avremo un quadro di tutto e poi parleremo di contologia giovedì 29 cioè vuol dire una volta che abbiamo capito qual è la strategia che vogliamo una volta che abbiamo capito segnali di ingresso una volta che abbiamo capito segnali di uscita o per qualsiasi altra strategia che io già conosco inseriremo qual è il money management ideale per andare a guadagnare e questo avremo giovedì 29 questo è il programma completo invece nella giornata insieme che faremo sarà una giornata veramente molto importante perché andremo a consolidare queste basi potremo rispondere a tutte le vostre domande ovviamente che che vi verranno fuori ma soprattutto vedremo l'applicazione reale di molte delle cose che andremo a vedere appunto durante questo ciclo quindi l'obiettivo appunto di questo ciclo non è tanto quello di darvi solo delle conoscenze teoriche ma darvi quegli spunti teorici e soprattutto quelle quegli skill pratici che vi permetteranno poi di andare o a diventare profittevoli o anche a migliorare la propria attività di trader perché probabilmente tra di voi c'è anche qualche trader esperto e magari con un piccolo accorgimento potrebbe diventare ancora più profittevole di quello che è quindi non voglio quindi a molti magari non bisognerà insegnare nulla anzi ma a molti vorranno solo semplicemente imparare qualcosa di nuovo daniele ci sei sì mirco ci sono direi che abbiamo quasi elencato perfettamente abbiamo quasi proprio un bel programma da affrontare bene abbiamo quasi 200 persone che si sono iscritte a questo webinar quindi ovviamente c'è molto interesse quindi io rispondo a qualche domanda e poi passo la parola a te così che tu possa illustrare dal lato ava dal lato broker le prime cose importanti che ci serve sapere ok intanto tanti che ci salutano grazie ragazzi condividere il mio schermo così almeno faccio vedere almeno un paio di slide che rispondo che rispondo alle slide che rispondo alle a delle domande poi ci siamo per tutti allora le lezioni saranno registrate sì certo le lezioni saranno registrate e vi manderemo le caricheremo su youtube su un canale e vi daremo nei prossimi giorni direttamente dove troverete tutti ci saranno registrazioni ovviamente sì le durate di questi webinar durano dureranno dipende questo durerà poco durerà circa altri 10 15 minuti mediamente dureranno tra i tre quarti d'ora all'ora ogni webinar dipende quello che dovremmo andare a fare la piattaforma di ava permette il trading automatico sì e vi insegneremo come utilizzare un nuovo il programma appunto creato da daniele dove potrete tutto quello che parleremo e spiegheremo noi auto programmarvelo ma senza conoscere le lighe senza conoscere la programmazione ma con un linguaggio oggetti quindi c'è un'icona per comprare un'icona per vendere molto semplice anche altre possibile c'è una data sbagliata sì allora c'è una data sbagliata poi vi manderemo tutto corretto chiedo scusa per questo gli orari dei webinar saranno tutti alla stessa ora cioè alle 20 e 30 esattamente cosa ti serve un attestato dipende da cosa vuoi fare tu se eventualmente ti dovesse interessare collaborare con qualche broker piuttosto che con altre cose avendo passato comunque tu un esame lo potrai sfoggiare se ti dovesse servire oppure sarà semplicemente un qualcosa per te appeso in camera dipende ognuno che cosa gli serve e che cosa gli interessa l'incontro in sala lo faremo era scritto nel webinar adesso non mi ricordo poi vi do tutte le informazioni mentre daniele parla guardo in ogni caso verrà fatto a milano bene 15 dicembre il 15 dicembre stavo il 25 no diciamo 15 dicembre un sabato quindi diciamo non è un feriale però va bene lo stesso abbiamo più tempo perfetto allora ti assegno il ruolo di relatore ok potrai far vedere il tuo monitor eccoci qua vediamo prego perfetto ragazzi e velocemente vi spiego un attimino vabbè io sono daniele ponzinibbi lavoro nel settore ormai da vent'anni quindi non sono più tanto giovincello gli ultimi otto anni lavoro in avatrade ho scelto come broker ho avuto appunto la fortuna di incontrarmi con avatrade ormai 7 8 anni fa il broker come vedete da questa semplice slide che è un broker che è già da 12 anni presente sul mercato era partito nel 2006 si chiamava ava fx poi come sapete tutti i broker forex a partire dal 2010 2011 hanno introdotto anche tramite cfd altri strumenti finanziari quindi oltre al forex anche avatrade appunto da ava fx è diventata avatrade quindi l'obiettivo di ava fx è diciamo totalmente allineato a quello di voi trader di voi interessati di voi investitori è proprio quello di darvi la possibilità di investire di diversificare su tutti i mercati finanziari quindi dal forex gli indici le materie prime e via dicendo come vedete nel percorso di avatrade ogni anno sono stati fatti diversi step poi tra l'altro anche queste slide che vi faccio vedere soprattutto quelle delle puntate successive chiaramente ve le possiamo condividere in questo modo chiaramente oltre ad avere dei video avete anche come dire delle altro altro materiale che poi nella giornata del vivo vi potrà anche essere come dire ulteriormente integrato con con tutte le cose che vi faremo vedere per quanto riguarda chiaramente devo parlare in soprattutto all'inizio del broker poi nelle prossime puntate uscirà un po più il daniele 3 e quindi chiaramente avatrade vi dà l'accesso a tutti questi strumenti a tramite lo strumento finanziario cfd vi dà l'accesso a tutti i mercati sui quali poter far trading 24 ore su 24 e si dice anche sette giorni su sette per con l'ingresso delle valute a questo punto andiamo un attimino in un'altra slide come vedete molto commerciale del resto siamo nella prima puntata quindi devo semplicemente introdurre le parti ci tengo a farvi notare una cosa non so se avete mai notato quando andate sui siti dei broker non solo di ava ma anche sui siti di tutti gli altri broker del mondo con la mifid 2 a partire quindi dall'inizio di quest'anno ogni broker è tenuto a dichiarare diciamo quant'è la per la percentuale dei propri clienti che che hanno delle perdite sul mercato ecco ci tengo a farvelo vedere così giustamente sapete anche dove andare a guardare questo caso sul sito di avatrade questo del sito di avatrade vediamo di allargare un attimo in basso ci sono dei disclaimer in questo caso avatrade dice i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 71 per cento dei conti di clienti al dettaglio i cosiddetti retail perde denaro mi vorrei soffermare su questa frase non chiaramente per guffare ci mancherebbe anzi il contrario diciamo che avatrade e tra il broker almeno tra i primary broker e broker più importanti che ha una percentuale di clienti che che perdono ahimè perdono la maggior parte che stanno perdendo poi vi spiegherò meglio la statistica però rispetto agli altri broker le statistiche sono molto più basse ci sono broker sotto vigilante tipo di cipro faccio un esempio che perdono oltre l'ottanta ottantacinque per cento avatrade vigilata banca centrale di irlanda come puro intermediario ahimè purtroppo i clienti perdono il 71 per cento però un dato inferiore rispetto alla media come viene calcolato questo dato è molto importante quindi l'amifid 2 ha chiesto tramite l'amifid 2 i vari organi l'organo di vigilanza degli organi di vigilanza quindi l'esma ha chiesto i vari broker delle statistiche per sapere in un determinato periodo di tempo quindi tre mesi il periodo di tempo quant'è la percentuale dei clienti che fatto il versamento a distanza di tre mesi hanno diciamo un conto veramente anche con un euro con qualche centesimo di euro in meno ecco il 71 per cento dei clienti il retail purtroppo a queste statistiche perché viene detto clienti retail clienti al dettaglio perché l'amifid 2 attraverso poi l'esma ha introdotto una differenza tra diciamo il cliente professional il cliente retail vi faccio vedere un'altra slide proprio per darvi un'idea proprio darvi un concetto di quello che stiamo parlando considerate che chiaramente ogni broker chiaramente degno degno di questo nome quindi mi riferisco soprattutto i broker vigilati sul loro sito hanno questa 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 distinzione vi dicono quali sono appunto diciamo i pro e di contro di avere diciamo una classificazione come retail sicuramente come vedremo poi nelle nelle puntate successive anzi direi già da domani lavorare con meno leva perché come sapete i clienti retail che quindi non hanno i requisiti di professional che potete trovare sul sito di avatrade hanno una leva finanziaria faccio l'esempio del forex molto più ridotta è anche vero che lo sappiamo che molte volte la leva può far male però diciamo che da quando avevo iniziato io parlo del 98 quando ancora diciamo era era raro fare del trading online gli ordini sul forex avvenivano soprattutto in via telefonica le leve erano limitate a 10 chiaramente poi si è stato un salto quantico fino a 400 fino al primo luglio del primo agosto di quest'anno adesso come avete visto per clienti retail sono stati limitati a 30 chiaramente questa è un cambiamento epocale però nulla vieta chiaramente di provare a vedere se si hanno anche i requisiti per poter diventare professional chiaramente sto parlando di una regolamentazione di tipo europeo quindi il cliente europeo per poter avere diciamo maggiori le leve finanziarie quindi poter incorrere di maggiori rischi chiaramente deve poter provare di avere i requisiti vi faccio vedere effettivamente anche un'altra slide dove vi dicono quali sono i requisiti per poter diventare professional quindi per noi per noi come per qualsiasi altro broker quindi per l'esma un trader è un trader professionale se almeno 12 anni 12 mesi di esperienza e aver fatto per ogni trimestre almeno 10 eseguiti di un diciamo sui mercati finanziari oppure un secondo requisito che abbia una possa dimostrare di avere una rilevanza un'esperienza rilevante nel settore finanziario il terzo requisito invece che abbia un portafoglio di almeno superiori 500 mila euro parlo chiaramente di un patrimonio mobiliare quindi in strumenti finanziari diciamo che se vengono rispettati due su tre di questi requisiti diciamo il nostro trader retail può chiedere di diventare professional vi dico le cose come stanno tra appena entrata in vigore l'esma la gran parte dei trader hanno come dire chiesto i requisiti per poter diventare professional sono passati ormai due tre mesi da quando entrata in vigore quindi tre mesi buoni diciamo che da una semplice dichiarazione al broker è stato chiesto dall'ordine di vigilanza anche delle prove quindi come dire se non si hanno delle prove consistenti delle prove effettive è inutile andare a chiedere il broker di poter diventare professional almeno se si vuole lavorare all'interno dell'esma essere professional servono dei determinati requisiti occorre anche dire che chiaramente il broker offre diversi tipi di regolamentazioni però chiaramente i clienti europei di default vanno a finire all'interno dell'esma diciamo il mio cappello giuridico anche questa sera l'avrei fatto eventualmente vi posso far vedere un altro slide molto semplice per farvi capire quali sono i prodotti che offre il broker avatrade e come anche altri broker quindi sono i cfd quindi c'è con i cfd come vi dicevo prima sono non sono nient'altro che un contratto derivato che ci consente di replicare l'andamento di quissiasi prodotto finanziario quindi che sia l'euro dollaro quotato nell'interbancario che sia un'azione quotata per esempio in borsa italiana un future quotato al cme tramite un cfd il broker ti consente quindi di andare a investire sia a rialzo che a ribasso i vantaggi io chiaramente come broker ma anche come trader vedo più vantaggi nel lavorare con un cfd uno perché al di là dell'esma lavorando con un broker e con un cfd mi viene chiesto meno margine meno margine per come vedo io la leva leva vedo la leva finanziaria vuol dire avere più possibilità di diversificare poi soprattutto con un cfd come dicevamo prima puoi andare sia a rialzo che a ribasso e tutte queste cose operative però chiaramente faranno parte delle prossime puntate danni ti do ragione ti do ragione ma solo da da qualche settimana questa parte quando ava ha diminuito pesantemente gli spread e quindi qualche mese fa avrei detto con capitali piccoli convengono i cfd con capitali grossi convengono i future reali invece adesso con gli spread che avete inserito le leve un pochino più basse anche per capitali grossi conviene ancora i cfd chiaramente non posso nient'altro che dirti di sì e in più ti aggiungo anche che come dire le banche stesse si stanno muovendo sui cfd quindi sicuramente il il futuro è dei cfd ormai l'unico stato al mondo che non offre i cfd sono gli stati uniti per il resto qualsiasi eh organo di vigilanza consente la negoziazione solo gli stati uniti al momento non li consentono bene signori allora io vi auguro una splendida serata abbiamo concluso per questa sera come volevate come avevamo detto una serata introduttiva per spiegarvi questo secondo me molto bello bel progetto e l'obiettivo di far diminuire ad ava che dai dei 71 per cento di clienti in perdita magari portarlo anche solo a 68 67 o 69 che ci piace di più a tutti ma rimanere sostanzialmente far diminuire quel valore eh di ava 3 che ho guardato anche negli altri broker è effettivamente molto più alto detto questo ci risentiamo ragazzi domani sera puntuali alle ore 20 e 30 vi chiedo solo vi arriverà una mail poi domani con alcune piccole istruzioni per poi arrivare pronti anche eh durante la giornata in sala una delle cose che vi chiederemo è di aprire un conto avatrade demo o reale come preferite voi su cui faremo le operazioni delle esercitazioni che saranno oggetto poi dell'esame ma questo vi arriverà tutto via mail non anticipate in tempi ragazzi eh detto questo vi auguro come buona giornata